Se non segnali, non vale. Una sentenza della Cassazione ha confermato le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio su un ricorso presentato da un automobilista trevigiano contro una multa per eccesso di velocità presa a Feltre. Anno 2015. L'automobilista viene sorpreso dallo Scout Speed, l'autovelox montato direttamente sull'auto della municipale che misura la velocità anche mentre la macchina dei vigili si muove. La multa arriva e l'uomo, assistito dall'avvocato Fabio Capraro di Treviso, decide di presentare un ricorso. Il giudice di pace di Belluno, chiamato a esprimersi, richiama una disposizione ministeriale che impone la segnalazione dei rilevatori di velocità. Se la municipale lo utilizza in auto, per esempio, può rendere chiara la cosa con un segnale luminoso. Il comune di Feltre impugna la decisione. Il tribunale di Belluno, ottobre 2017, conferma il provvedimento dei giudici di pace che dà ragione all'automobilista. Il comune decide di andare avanti e così la questione finisce sotto la lente della Cassazione. Così il giudice romano mette un punto sulla questione feltrina, confermando nuovamente la correttezza della sentenza dei giudici di pace. Se manca la segnalazione preventiva, la multa è nulla.